bella questa scena di questo vangelo di questa domenica bellissima e si apre con la descrizione di Matteo capitolo tredicesimo mi fa tremare ma credo ciascuno di noi soprattutto per coloro che in questi giorni si possono permettere di essere in vacanza dice quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare bellissimo immaginate Gesù abitava proprio sul lago nella casa di Pietro sul lago a Cafarna quindi esce di casa e si trova già in riva al mare come stiamo facendo noi in questa domenica una situazione molto bella molto domestica molto semplice però dice questo contatto che Gesù aveva intensamente con la natura e sulla metodologia inclusiva di questa natura perché oggi in questo vangelo la parabola del seminatore Gesù parla attraverso questa metodologia molto bella inserendo la natura per poter spiegare i misteri più grandi del regno dei cieli parla di un seme per far comprendere il senso profondo del regno di dio e di come il male si insinui in questo regno perché la domanda fondamentale oggi è vale o no la pena annunciare il vangelo siamo anche noi in riva al mare in questa prospettiva molto bella siamo noi anche noi a contatto con la natura e riprendiamo questa natura in questo linguaggio molto semplice sì perché Gesù vuole parlare al nostro cuore in maniera molto semplice non usa parolone grosse non usa diciamo dizionari di teologia quando parla con noi parla con un linguaggio che è molto vicino alla nostra storia appunto quello delle parabole e allora c'è questo seminatore che esce a seminare c'è molta gente intorno a Gesù e un seminatore esce a seminare il verbo spero seminare oltre che seminare lo dice per assonanza la parola stessa è anche il verbo della fecondità no e il seminatore chi è dio e gesù cristo e la comunità cristiana e ciascuno di noi che annuncia il vangelo e mentre semina una parte di questo seme cade lungo la strada un'altra parte lungo un terreno sassoso un'altra parte sui rovi un'altra parte sul terreno buono qual è la cosa bella è che questo seminatore comunque semina con abbondanza e semina sempre sia sui rovi sia sulla strada sia sul terreno sassoso sia nel terreno buono semina cioè non è che dice guarda è meglio non gettare perché sulla strada il seme sprecato no il seminatore spreca il seme annuncia sempre l'evangelo ci rendiamo conto che qui Gesù si trova in una situazione di grande difficoltà immaginate il periodo è stato cacciato da gerusalemme a cafarna o l'hanno preso per matto tanti dei suoi discepoli sono andati via fondamentalmente il suo annuncio è stato un annuncio fallimentare allora Gesù cosa vuole dire guarda non importa il fallimento non importa a chi quali sia il destinatario sia un ateo un credente o non credente tu annuncia getta insieme la parola non ti preoccupare nonostante il cuore sia sassoso nonostante il cuore sia di pietra tu continua e annuncialo e allora vedete questo vangelo si conclude con l'omelia stessa di Gesù e Gesù stesso che questo vangelo lo spiega quindi non c'è bisogno che noi aggiungiamo parola a parola questo vangelo e guardiamolo un po in questi quattro terreni dice che il primo terreno è la strada che cos'è la strada lo dice Gesù stesso è il cuore indurito chi c'è il cuore duro dalla vita chi non vuole proprio accogliere il signore perché è fermo perché è stato quel cuore come una strada calpestato dalla vita dalle sofferenze quindi non gli importa di Gesù Cristo non gli importa della parola non me ne importa nulla di nulla ecco gli importa soltanto della durezza come la roccia delle cose materiali e lì il seme cosa fa nemmeno germina guardate questo crescendo quindi il primo terreno il seme nemmeno germina secondo terreno ecco dice Gesù è il cuore sassoso lì germina il seme però è un cuore incostante cioè comincia a germinare però viene poi soffocato dalle pietre e cioè di coloro che sono incostanti coloro che magari cominciano a loro piace il vangelo cominciano a seguire Gesù però alle prime difficoltà le prime persecuzioni ciao ci rivediamo la prossima volta il vangelo non fa per me vanno ammessa due tre volte poi in altre due tre dopo una volta non ci vanno più fanno la preghiera poi non la fanno più dicono di amare Gesù poi non lo amano più l'incostanza nel seguire Gesù poi i rovi quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola ma le preoccupazioni del mondo bisogna bagare la bolletta i miei figli mi danno problemi non ho tempo di pensare a Cristo perché ho troppe preoccupazioni sono occupato prima da Cristo qui il seme germina e addirittura cresce vedete c'è un crescendo in tutto questo però poi le preoccupazioni ci soffocano ma quante volte anche in una malattia un dispiacere un problema serio ha soffocato in una fede guardate il problema della nostra domenica è continuare a seminare a gettare il vangelo nonostante il male il maligno il demonio la malattia vogliano farci credere che Gesù non esiste il quarto terreno è quello buono dove produce in varie percentuali no dalla più piccola la più grande 160 30 per cento che è già un raccolto molto buono nel cuore di chi sa accogliere e comprende la parola di Dio allora vedete non arrendersi mai è la parola d'ordine di questo vangelo gettare a piene mani la parola di Dio anche parlando con coloro che sembrano essere i più distanti dal mondo di Gesù Cristo anche lanciando il seme della parola su quel terreno che può sembrare roccioso certe teste dure guardia Gesù Cristo proprio non lo posso vedere però sono quelle persone che in una parola riescono a convertersi per il potere dello Spirito Santo e poi ecco la seconda conclusione di questo vangelo è che nonostante tutto è quel seme possa crescere bene possa germinare possa fecondare dentro di noi nonostante il dolore che ci portiamo dentro ecco non può essere il dolore a soffocare come un masso con un macigno quella speranza che portiamo ciascuno nel nostro cuore e come vedete un po ci sono adesso le riprendiamo qui sugli scogli sono delle delle piantine proprio piccoline piccoline che nascono sulla roccia come facciano non lo sappiamo è il potere della vita della speranza che nonostante la roccia il seme germina e germoglia nonostante il dolore la vita va avanti la parola di Dio germoglia allora dalla riva di questo mare buona domenica a tutti buon germoglio e che la vita con l'aiuto di Dio vada avanti nonostante la roccia della durezza del dolore